Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Tra le tematiche che affronteremo all'interno di questa puntata, l'approvazione della legge a tutela dei riders e poi l'approvazione della relazione del garante per l'infanzia e l'adolescenza. Ci saranno poi anche altre tematiche, subito i titoli di questa puntata. In Toscana la prima legge a tutela dei riders, garante infanzia e adolescenza, apprezzamento per l'attività svolta nel 2020, uffici postali riaperti, solo parzialmente interrogazione della Lega. L'alta velocità torna a far tappa ad Arezzo. L'attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità di lavoro, anche in un lavoro che si evolve e che quindi vede la tecnologia farla sempre più da padrone, riesce a dare tutela e maggiori condizioni di sicurezza. Lo abbiamo detto anche in occasione di quel momento drammatico che rimarrà scolpito nella mia vita, quando ci siamo trovati di fronte all'ennesimo fatto accaduto in una fabbrica tessile nel comune di Montemurlo, che ha spezzato la vita a una giovane ragazza. Ecco, la sicurezza è la condizione essenziale e noi costruiremo un sistema di leggi e di supporti economici per poter sostenere con ispettori la garanzia e il controllo in materia di sicurezza del lavoro e quella di oggi, la legge oggi è approvata, un'ulteriore tappa in questa sorta di avanguardia che la Regione Toscana sta avendo proprio nell'ammodernamento del suo sistema legislativo, ma anche nelle azioni concrete per arrivare a questo obiettivo. Consentitemi di dire che sono orgoglioso e anche un po' emozionato, perché il giorno in cui fui eletto Presidente del Consiglio regionale dissi che uno dei compiti principali dell'Assemblea legislativa era cercare di dare voce a chi aveva meno voce e oggi dietro un rider o dietro un fattorino di Amazon non ci deve essere un algoritmo, come spesso viene rappresentato, ma c'è una persona, c'è un lavoratore e come tale deve avere diritti, più diritti rispetto a quelli che aveva oggi, a partire da quelli basilari, come penso la salute e la sicurezza sul lavoro. Io sono orgoglioso che la Toscana sia la prima regione italiana ad aver approvato una legge di questo tipo, una legge che dà più formazione, più tutele, più sicurezza nel mondo del lavoro, che richiede che i nostri uffici della prevenzione delle ASL facciano maggiori controlli in maniera più serrata, che imponga alle aziende di concedere la presenza di un rappresentante per la sicurezza sui luoghi di lavoro, che dia a questi ragazzi, a queste ragazze che ogni giorno portano il cibo o i vestiari a casa nostra, gli diano la possibilità di avere tutto il materiale tecnico che serve per qualunque condizione, sia giorno, notte, pioggia o sole. Abbiamo votato a favore, abbiamo condiviso l'impianto della legge perché riteniamo opportuno dare nuovi diritti, istituire dei principi che possono dare un'opportunità di tutela e di garanzia a delle persone che ovviamente lavorano, che hanno delle opportunità a saltuare di lavoro, ma in quella opportunità ci possa essere la tutela della loro vita, soprattutto in un momento come questo, dove molte volte si riscontrano anche dei morti sul lavoro, quindi ogni norma che va nella direzione di tutelare i diritti e soprattutto le garanzie delle persone che lavorano, a mio avviso, deve essere colta in termini molto positivi, una legge innovativa che mi auguro possa essere apripista a livello nazionale. Noi ci siamo astenuti, ci siamo astenuti non perché non riteniamo giusta la legge, ma perché ovviamente le tutele per i lavoratori devono essere di pari grado, sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori autonomi. Ma questa legge mi sembra che sia distante dalle istanze della gente comune, cioè aggrava soltanto una situazione di orpelli burocratici dove a un certo momento si chiede il responsabile della sicurezza dei lavoratori per una categoria di persone che fa della flessibilità uno dei motivi per cui questa piattaforma digitale dovrebbe essere attivata. Io credo che si parla tra l'altro di stress da consegne. Ora, se qualcuno deve avere lo stress da consegne sono per esempio i camionisti, non certo i rider che devono portare una pizza, oppure devono fare dei corsi di comportamento stradale. Ma vi rendete conto, chi deve avere a un certo momento la patente perché ha il motorino o la macchina ovviamente già l'ha fatto. Chi deve andare in bicicletta o lo facciamo per tutti, oppure è inutile che si debba fare corsi di questo genere. Sui rider va fatta una precisazione perché è doverosa, perché anche tanti ragazzi che svolgono questa professione ce lo chiedono. La Regione Toscana con la legge che abbiamo votato oggi non trasforma la figura del rider in un lavoratore subordinato. Questo è ovviamente un qualcosa che spetta alla normativa nazionale. La Regione Toscana oggi fa soltanto un passo che sia piccolo o grande, lo scopriremo col tempo e con i risultati, nella tutela della salute e della sicurezza di chi svolge questo lavoro. Cioè mettiamo un piccolo tassello, piccolo, nella speranza che sia soltanto il primo, a tutelare la salute e la sicurezza di questi ragazzi che fanno lavori rischiosi, perché lo sappiamo tutti, stanno in mezzo al traffico, girano con mezzi leggeri, biciclette, motorini, corrono perché a volte qualche secondo per loro può determinare la riuscita lavorativa di una giornata. Quindi noi oggi abbiamo fatto un piccolo passo nella tutela della sicurezza dei rider. Da un punto di vista del contratto lavorativo restano con il contratto che avevano fino adesso, cioè non è che risolviamo il problema, continuano a lavorare a Cottimo, a partita IVA e non certo come lavoratori subordinati. Noi con questa legge operiamo nell'ambito della nostra competenza in materia di tutela e sicurezza sul lavoro e di salute pubblica nel momento in cui il lavoro si svolge in luogo pubblico o aperto al pubblico. Con questa norma, che ripeto, rientra in queste competenze e che nonostante appunto c'è stata un po' di discussione in Commissione, ma è chiaro e pacifico sia perché lo dice la norma nazionale, sia perché ci sono interpretazioni giurisprudenziali che sono sopraggiunte, che la normativa e l'impianto delle norme sulla sicurezza, sui luoghi di lavoro, si applicano ai lavoratori delle piattaforme digitali, sia che questi lavoratori siano inquadrati come autonomi o come dipendenti. Quindi è in questo quadro che noi interveniamo con questa norma che prevede che si elabori un documento tecnico, che vada a analizzare quali sono i rischi specifici di questo lavoro, individui come si fa a prevenirli, quali sono gli strumenti di sicurezza sul lavoro che devono essere forniti a questi lavoratori, qual è il livello di formazione che deve essere fatto, qual è il livello di tutela sanitaria e prevede altresì che si favorisca la realizzazione, la nomina, l'istituzione dei responsabili dei lavoratori sulla sicurezza che sono previsti dalla normativa nazionale, ma troppo spesso non applicati e non concretizzati in questo tipo di lavoro. Quindi aumentiamo questa parte di tutela e prevediamo poi che il sistema di prevenzione delle aziende sanitarie facciano controlli, ovviamente in un'ottica essenzialmente di prevenzione del rischio, ma anche poi controlli sul preciso rispetto di queste normative. Il Consiglio regionale ha votato a favore della proposta di risoluzione relativa al garante dell'infanzia e dell'adolescenza. A seguito di un'istruttoria che è stata compiuta in prima commissione con l'audizione della garante della Regione Toscana, la dottoressa Bianchi. Il 2020 è stato sicuramente un anno difficile, un anno caratterizzato dalla pandemia, ma anche l'anno delle elezioni regionali. Nonostante tutte queste difficoltà, l'attività del garante per l'infanzia non si è interrotta ed è proseguita, è proseguita con la stessa efficacia di sempre, anche se vi è la necessità di una riorganizzazione degli uffici. Importante è stato il contributo che il garante nel 2020 ha dato alla tematica del cyberbullismo, addirittura c'è stata una pubblicazione che è stata sostenuta e promossa dal garante, così come significativo è stato il supporto rispetto alla tutela dei minori stranieri non accompagnati. Il 2020 è stato l'anno di un bando con il quale si sono acquisite le disponibilità di molti volontari per il servizio di tutela ai minori stranieri non accompagnati. Un contributo significativo quello del garante anche per far fronte alle emergenze che nel mondo dell'infanzia sono emerse nel corso della pandemia, in particolar modo il tema del ricongiungimento familiare, il problema della dispersione scolastica, quella dell'accesso allo sport, quella della tutela delle disabilità. In questo momento l'infanzia, dico anche l'adolescenza, è sottoposta a uno stress maggiore di quanto avuto in precedenza e il ruolo del garante diventa fondamentale per cercare di registrare quello che è l'allarme che viene dai nostri bambini, dai giovani e dalle loro famiglie. L'attenzione al cyberbullismo, l'utilizzo delle nuove piattaforme, le relazioni a volte complesse che ci sono nelle famiglie sono tutti ragioni per attenzionare al garante delle situazioni che possono diventare diffuse e che in qualche maniera vanno analizzate. Credo che sia fondamentale investire nei bambini e nei giovani anche in questo senso, con la tutela, che è la cosa principale che dobbiamo fare non soltanto come genitori ma anche noi come istituzioni. La dottoressa Bianchi, anziché raccontarci come spende gli 80.000 euro circa che la regione toscana destina alla sua figura annualmente e raccontarci quali progetti ha realizzato, quali obiettivi ha centrato, ha presentato una relazione in cui ha fatto una collezione dei 28 comunicati stampa che ha inviato, un bando di concorso che lei stessa si è vantata di aver redatto, salvo poi scoprire che ha ottenuto nemmeno la partecipazione di una persona, quindi è andato deserto, a fronte di, ripeto, 80.000 euro investiti nella sua persona. Ha raccontato di una garante che si trova in difficoltà, che lavora da sola, senza il supporto della regione e tra l'altro mettendo anche, gettando anche una cattiva luce sulla regione toscana, quando in realtà la regione toscana mette a disposizione la dottoressa Bianchi due persone, una a contratto full time, tra l'altro un part time, la stessa dottoressa Bianchi spende 15.000 euro l'anno in consulenze esterne per assistenza a queste due persone che già sono messe a sua disposizione nella regione toscana e infine, prima di gettare così tanto discredito sulla nostra regione, dovrebbe anche pensare che venendo lei da Milano, oltre al suo rimborso speso, oltre al suo stipendio di 3.800 euro al mese, ci costa anche 13.500 euro di biglietti di treno per farla arrivare da Milano a qui. Il consigliere della Lega Marco Casucci riporta, con un'interrogazione, l'attenzione sulle riaperture parziali degli uffici postali nel territorio aretino. Sapete quanto ho lottato perché vi fossero ulteriori riaperture, però siamo arrivati praticamente alle porte di giugno e ancora per troppe frazioni del territorio aretino gli uffici postali rimangono parzialmente aperti, con tutti i disagi del caso, specialmente per gli anziani. Io dirò di più che arrivati a questo punto non vorrei che fosse una scusante del Covid per un'ulteriore riorganizzazione degli uffici postali. Va detta con forza perché ora basta. Abbiamo un problema che è esteso in tutto il territorio provinciale, dal capoluogo di provincia, gli uffici postali della Chiasa e di via Vittoria Alfieri, per quanto riguarda il territorio della Valdichiana, Pozzo della Chiana, Marciano, Casentino, Poppi, il centro di Poppi ha avuto ulteriori disagi anche per questo ufficio, oltre che per quello dell'Agenza delle Entrate negli ultimi anni, anche quello oggi ha aperto soltanto un giorno, e per quanto riguarda il Valdarno, da Cavriglia fino a Badiannano, a Faella nel Comune di Castelfranco, Pian di Scoia, ecco, tante tante realtà. Non è tollerabile, noi chiediamo che Poste Italiane S.P.A. riapra velocemente questi uffici perché in molti territori rappresentano dei presidi fondamentali e non mi fermerò nella mia battaglia finché si torni veramente ad avere un servizio pubblico universale. Dopo l'emergenza Covid l'alta velocità torna a far tappa ad Arezzo, ripristinati i sei convogli diretti nelle grandi città. Con il cambio orario ritorneranno le sei corse di treni a V che servono a Arezzo, sia per andare verso Milano, che era l'unica corsa che era rimasta, ma soprattutto quelli del collegamento in andata e ritorno verso il sud, quindi essenzialmente verso Roma. Ritengo che sia una notizia importante. Io mi ero battuto per ottenere da Assessore queste fermate, che ricordo sono un servizio commerciale, quindi non costano niente alla Regione. Poi il Covid aveva di fatto visto dimezzare il servizio e il fatto che ora ritorniamo invece all'ordinarietà è una bella notizia anche per quanto riguarda l'estate che sta arrivando e pensiamo oltre a servire il traffico dei pendolari e dei viaggiatori in generale anche per i flussi legati al turismo. Io penso che dovremo anche continuare a batterci perché magari questa offerta che ritorna alle sei corse possa ancora essere migliorata. Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione. Cronache e commenti torna la prossima settimana. Grazie a tutti.